Ciao, in questa serie di lezioni studieremo le circonferenze e le figure correlate alle circonferenze. Cominciamo, come sempre, con un'applicazione pratica, chiedendoci come sia possibile determinare la posizione, per esempio, di un cellulare. Indichiamo con A il punto in cui si trova il cellulare. Quando il segnale del cellulare viene raccolto da una centralina, è possibile determinare la distanza di questo cellulare dalla centralina, semplicemente vedendo con quale ritardo il segnale arriva tra una comunicazione e l'altra. Quindi, avendo due centraline che riescono a raccogliere il segnale del cellulare, è possibile determinare la distanza da entrambe. Tracciando allora le circonferenze che hanno centro nelle due centraline per raggio alle distanze rilevate, è possibile individuare due punti in cui queste due circonferenze si intersecano. Dunque, il cellulare si deve trovare in uno di questi due punti, perché sono gli unici due punti che hanno le date distanze dalle due centraline. Avendo a disposizione allora una terza centralina e rilevando la distanza del cellulare anche da quella centralina, è possibile stabilire quale dei due punti è quello occupato dal cellulare. Un meccanismo analogo è alla base del funzionamento del GPS. Anche se in questo caso la situazione è più complicata, ma non entriamo nei dettagli. La circonferenza è un esempio di quello che viene chiamato in geometria il luogo geometrico. Cioè un insieme di tutti e soli punti del piano che soddisfano una certa proprietà. Altri esempi sono l'asse di un segmento e la visibilitrice di un angolo. Cominciamo da questi. L'asse di un segmento è la rete che passa per il suo punto medio ed è perpendicolare ad esse. Vogliamo dimostrare che è anche il luogo geometrico di tutti i punti del piano equidistanti dagli estremi di quel segmento. Bisogna dimostrare due cose. Prima di tutto che i punti che stanno sull'asse del segmento sono equidistanti dai suoi estremi. E viceversa che se un punto è equidistante dagli estremi del segmento allora appartiene al suo asse. Dimostriamo la prima cosa. Dunque prendiamo un punto P che stia sull'asse del segmento. e consideriamo le sue distanze dagli estremi. Quindi segmenti PA e PB. Il triangolo AMP e il triangolo BMP sono tra loro congruenti per primo criterio di congruenza. Infatti AM è congruente a MB, PM è un lato comune e gli angoli AMP e BMP sono retti. Di conseguenza AP e BP sono congruenti in quanto sono elementi corrispondenti di triangoli congruenti. E abbiamo dimostrato che il punto P è equidistante da A e B. Viceversa supponiamo che Q sia un punto equidistante da A e B. Per il momento non lo disegno nell'asse del segmento. Dimostreremo che appartiene ad esso però. E facciamo essenzialmente il ragionamento contrario. Se colleghiamo Q ad A e a B, sappiamo per ipotesi che questi due segmenti sono tra loro congruenti. Se consideriamo allora anche il segmento QM, i triangoli AMQ e BMQ sono tra loro congruenti per il terzo criterio di congruenza. Infatti hanno i tre lati ordinatamente congruenti. Di conseguenza tutti i loro elementi corrispondenti sono congruenti. In particolare l'angolo AMQ è congruente all'angolo BMQ. E siccome la somma di questi due angoli in angolo piatto entrambi devono essere retti. Quindi il punto Q appartiene all'asse del segmento. In modo analogo possiamo dimostrare che la bisettrice di un angolo è il luogo geometrico di tutti i punti del piano che sono equidistanti dai lati di quell'angolo. Se prendiamo per esempio un punto P che appartiene alla bisettrice, per ipotesi gli angoli AOP e BOP sono tra loro congruenti. Le distanze di P dai lati dell'angolo si ottengono attraverso le proiezioni. Chiamiamo A e B le proiezioni del punto P sulla rete A e B. Dobbiamo dimostrare che AP e BP sono tra loro congruenti. Ma i triangoli OAP e BOP hanno OP in comune e due angoli indicati congruenti. Quindi per il secondo criterio generalizzato di congruenza due triangoli sono congruenti. Ne viene allora che AP e BP, essendo elementi corrispondenti di triangoli congruenti, sono tra loro congruenti. Quindi il punto P è equidistante dai lati dell'angolo. Viceversa, prendiamo un punto Q che si è equidistante dai lati dell'angolo. Chiamiamo A' e B' le sue proiezioni. Quindi per ipotesi AP e B' sono tra loro congruenti. Io per il momento non ho disegnato il punto sull'asse, sulla bisettrice, ma voglio dimostrare che appartiene a tale retta. Anche qui basta prendere in considerazione i triangoli OQA' e OQB'. Questi due triangoli sono triangoli rettangoli che hanno l'ipotenusa in comune e un cateto congruente al corrispondente. Quindi per il criterio di congruenza dei triangoli rettangoli sono congruenti. E in particolare tutti i loro elementi corrispondenti sono congruenti. Ne viene che A' OQ è congruente a B' OQ e dunque che il punto Q sta sulla bisettrice dell'angolo A o B. Per quanto riguarda la circonferenza, la sua definizione è già quella di un luogo geometrico. Cioè preso un punto O e un segmento AB fissati, la circonferenza che ha centro O e raggio AB è luogo geometrico di tutti i punti del piano la cui distanza dal centro O è congruente al raggio AB. Tutti i punti del piano che non stanno sulla circonferenza vengono divisi essenzialmente in due parti, in due sottoinsiemi. Il primo sottoinsieme è quello dei punti interni. Un punto è interno se la sua distanza dal centro è minore del raggio. Il secondo insieme è quello dei punti esterni. Quindi un punto è esterno a una circonferenza se la sua distanza dal centro è maggiore del raggio. Un punto, in questo caso R, che sta sulla circonferenza, invece è poi definizione ha una distanza dal centro congruente al raggio. Dopo aver visto la definizione di circonferenza come luogo geometrico ci si può chiedere quali siano le condizioni che permettono di definire una circonferenza. Per esempio, per un punto passano infinite circonferenze e quindi il punto non è adatto a individuare una ben precisa e neanche due lo sono. Possiamo dimostrare, lo faremo ora, che dati tre punti qualsiasi purché non siano allineati, esiste una e una sola circonferenza che passa per tre punti. Vediamo innanzitutto perché i tre punti devono non essere allineati. Supponiamo che esista la circonferenza che passa per A, B e C. Indichiamo con O il suo centro, immaginiamo che sia qui e deduciamo come segue. Innanzitutto possiamo dire che per definizione di circonferenza i punti A, B e C hanno la stessa distanza da O quindi i segmenti AO, BO e CO sono tra loro congruenti. in particolare O è equidistante da A e da C dunque deve appartenere all'asse di quel segmento. Analogamente O è equidistante da A e da B e quindi deve appartenere anche all'asse di quel segmento. Ora si capisce perché i punti A, B e C non possono essere allineati. Se A, B e C fossero allineati i segmenti A, B e C starebbero sulla stessa retta e da un punto esterno di questa retta cioè da O potrebbero essere condotte due perpendicolari distinte alla stessa retta. Cosa impossibile perché la perpendicolare condotta da un punto esterno a una retta è unica. Dimostriamo allora il teorema inverso cioè che se prendiamo tre punti qualsiasi che non siano allineati esiste una sola circonferenza che passa per tali punti. Lo spunto per la dimostrazione ce la dà la dimostrazione che abbiamo appena fatto. Cioè se prendiamo in considerazione i segmenti A, B e A, C abbiamo visto che il centro della circonferenza dovrebbe stare sugli assi di questi due segmenti e quindi tracciamo gli assi di due segmenti. Cominciamo per esempio con l'asse di A, C che passa per il suo punto medio ed è perpendicolare ad esso. e poi prendiamo in considerazione l'asso di A, B che è la proprietà analoga. A questo punto la prima cosa da dimostrare è che questi due assi non sono paralleli se i tre punti A, B e C non sono allineati. Se questi assi fossero paralleli tra di loro per assurdo allora traceremo la parallela all'asse di A, B passante per il punto A e questa retta per le proprietà del parallele dovrebbe essere parallela anche all'asse di AC. Stiamo usando la proprietà transitiva. L'asse di AC è parallela all'asse di AB quindi questa retta è parallela all'asse di AB quindi questa retta deve essere parallela all'asse di AC. Ma dato che l'asse di AC è perpendicolare ad AC la proprietà delle parallele ci direbbe che anche quest'ultima retta che abbiamo tracciato è perpendicolare ad AC ma siccome essa è anche perpendicolare ad AB perché è parallela all'asse di AB avremo che il segmento AC e il segmento AB sono entrambi perpendicolari a questa retta e quindi i punti AB e C sarebbero allineati. Siccome per ipotesi non lo sono vuol dire che da qualche parte abbiamo sbagliato e cioè ad ipotizzare inizialmente che i due assi non si intersechino. Ripristiniamo allora il disegno corretto. I due assi si intersechino in un punto che chiamiamo O. Dato che gli assi sono dei luoghi geometrici abbiamo visto questo punto O appartenendo all'asse di AC deve essere equidistante da A e da C ma appartenendo anche all'asse di AB deve essere equidistante anche da A e da B quindi i punti AB e C si trovano alla stessa distanza di O dunque stanno su una stessa circonferenza. Abbiamo dimostrato l'esistenza di una circonferenza che passa per AB e C. Come si fa a dimostrare che questa circonferenza è unica? Beh semplicemente perché il centro deve stare nel punto di intersezione di questi due assi e dunque siccome due rette hanno al massimo un punto di intersezione questo centro è unico. Si può concludere una cosa in più in particolare che questo centro deve appartenere anche all'asse del segmento AB. Infatti nella dimostrazione avremmo potuto partire tranquillamente utilizzando i segmenti AB e BC per trovare il punto O oppure avremmo potuto cominciare dai segmenti AC e BC. In tutti i casi, visto che abbiamo dimostrato che la circonferenza è unica tutti questi assi si devono asseccare esattamente nello stesso punto che O. Per continuare lo studio delle circonferenze è necessario introdurre un nuovo assioma che in qualche modo dà ragione di quello che avevamo detto prima cioè che la circonferenza divide il piano in due regioni una regione interna e una regione esterna. Però questa proprietà non può essere dimostrata senza l'uso di un ulteriore assioma rispetto a quelli che avevamo studiato in precedenza. Questa assioma dice che se noi prendiamo una circonferenza qualsiasi e due punti qualunque che però uno sia interno e l'altro esterno alla circonferenza il segmento che ha per estremi tali punti interseca la circonferenza esattamente in un unico punto come nel disegno. Con questa assioma è possibile studiare le relazioni di posizione reciproca tra una retta e una circonferenza. Rispetto ad una data circonferenza una retta può essere esterna tangente o seccante. Per definizione una retta è esterna se non ha punti in comune con la circonferenza. È tangente la circonferenza se ha un solo punto in comune con essa ed è seccante la circonferenza se ha due punti in comune con essa. Una retta non può avere più di due punti in comune con la circonferenza altrimenti sulla circonferenza esistereranno tre punti allineati cosa che abbiamo visto impossibile. Oltre a questa definizione esiste anche un criterio che permette di stabilire se una retta è esterna tangente o seccante andando ad esaminare la sua distanza dal centro. In particolare quindi la retta è esterna se la sua distanza dal centro è maggiore del raggio. quindi OH maggiore del raggio che qua indico con un'area minuscola. Una retta è tangente se la sua distanza dal centro è congruente al raggio. mentre una retta è seccante se la sua distanza dal centro è minore del raggio. bene, dimostriamo che le cose stanno così cominciando dal caso in cui la distanza della retta dal centro sia maggiore del raggio. Il punto H che è la proiezione di O sulla retta e quindi che realizza assieme al punto la distanza tra la retta e il centro è esterna perché la sua distanza da O è maggiore del raggio. Se prendiamo un qualunque altro punto P sulla retta allora il triangolo OPH è un triangolo rettangolo e OP è la sua ipotenusa quindi OP che è l'ipotenusa è maggiore di qualunque cateto del triangolo in particolare è maggiore di OH. Siccome OH è maggiore di R per la proprietà transitiva della relazione di ordine abbiamo che OP è maggiore di R quindi anche P è un punto esterno. Siccome P è un qualunque altro punto della retta tutti i punti della retta sono esterni alla circonferenza quindi la retta non ha punti in comune con la circonferenza e dunque è esterna ad essa. Se prendiamo poi in considerazione il caso in cui la distanza della retta dal centro della circonferenza sia congruente al raggio allora il punto H è un punto della circonferenza per definizione di circonferenza se prendiamo un qualunque altro punto P sulla retta come prima il triangolo PH è un triangolo rettangolo e dunque la sua ipotenusa OP è maggiore del cateto H che è congruente al raggio quindi il punto P avendo una distanza dal centro della circonferenza maggiore del raggio è un punto esterno dunque questa retta ha un unico punto in comune con la circonferenza che è il punto H nella figura prima era indicato in rosso questo punto con il nome T che sta per punto di tangenza della retta alla circonferenza supponiamo supponiamo che la distanza tra il centro della circonferenza e la retta sia minore del raggio possiamo possiamo dimostrare che questa circonferenza ha due punti intersezione con la retta vediamo come si fa prendiamo su questa retta un punto P la cui distanza da H sia congruente al raggio della circonferenza quindi PH è congruente a questo punto il triangolo OHP come prima è un triangolo rettangolo e la sua ipotenusa OP è maggiore di qualunque dei suoi cateti e quindi in particolare questa volta è maggiore di HP che è congruente al raggio quindi OP è maggiore di PH dunque il punto P è un punto esterno alla circonferenza ma H è un punto interno perché la sua distanza dal centro è minore del raggio e dunque per la somma che abbiamo introdotto prima il segmento HP interseca la circonferenza in un solo punto che chiamiamo B analogamente si può prendere dall'altra parte sulla retta un punto Q la cui distanza da H sia congruente al raggio e costruire come prima un triangolo rettangolo per dimostrare che anche il punto Q è esterno alla circonferenza e dunque che il segmento HQ interseca la circonferenza in un punto A abbiamo visto allora che la nostra retta interseca la circonferenza esattamente in due punti siccome altre possibilità non esistono una retta è esterna alla circonferenza se è solo se la sua distanza dal centro è maggiore del raggio tangente se è solo se la sua distanza dal centro è congruente al raggio secante se è solo se la sua distanza dal centro è minore del raggio in particolare vediamo nella figura centrale che il punto di tangenza ha la proprietà che il raggio che ha questo punto come estremo è perpendicolare alla retta tangente alla circonferenza sulle tangenti è possibile ricavare ulteriori informazioni in particolare se tracciamo da un punto esterno qualunque a una circonferenza le tangenti che sono due si può dimostrare che i due segmenti di tangenza in questo disegno i segmenti AP e BP sono tra loro congruenti e che la semiretta PO è la bisettrice dell'angolo APB vediamo come si può fare in questo caso consideriamo i triangoli AOP e BOP questi sono triangoli rettangoli per quanto abbiamo detto prima perché i raggi OA e OB che cadono sui punti di tangenza sono perpendicolari alle corrispondenti tangenti questi due raggi sono congruenti e il segmento OP è comune ai due triangoli quindi i due triangoli rettangoli hanno l'ipotenusa e un cateto congruenti per il criterio di congruenza ai triangoli rettangoli allora questi triangoli sono congruenti in particolare tutti i loro elementi corrispondenti lo sono così AP risulta congruente a BP e l'angolo APO risulta congruente all'angolo BPO possiamo aggiungere anche che la semiretta OP è bisettrice dell'angolo AOB cioè che l'angolo AOP è congruente all'angolo BOP perché anche questi sono elementi corrispondenti dei triangoli congruenti l'ultima cosa che vediamo in questa lezione è la posizione reciproca di due circonferenze se prendiamo due circonferenze possono capitare diversi casi le due circonferenze possono non avere oppure possono avere punti in comune al massimo i punti che possono essere in comune se le due circonferenze sono diverse sono due perché abbiamo visto che per tre punti non allineati passa una o una sola circonferenza allora la prima possibilità è che tutti i punti di ciascuna circonferenza siano esterni all'altra circonferenza è la prima figura in alto a sinistra in questo caso si dice che le due circonferenze sono tra loro esterne poi le due circonferenze possono avere un unico punto in comune ci sono due possibilità che i rimanenti punti di ciascuna circonferenza siano esterni all'altra circonferenza oppure che siano i punti di una interni ai punti dell'altra allora nel primo caso che è la seconda figura della prima riga si dice che le due circonferenze sono tangenti esternamente nel secondo caso che è la prima figura della seconda riga le due circonferenze sono tangenti internamente quando invece le due circonferenze hanno due punti in comune si dice che sono seccanti mentre l'altra possibilità in cui le due circonferenze non hanno punti in comune quella che è una delle due sia interna all'altra un caso particolare di una circonferenza interna all'altra è quella in cui le due circonferenze hanno lo stesso centro in questo caso si dice che sono concentriche come per il caso delle rette esiste anche un criterio che permette di stabilire se due circonferenze sono esterne tangenti e via dicendo andando ad analizzare la distanza che c'è questa volta tra i loro centri se indichiamo per esempio con R maiuscolo ed R minuscolo i raggi delle due circonferenze allora il criterio dice che se la distanza tra i centri è maggiore della somma dei raggi allora le circonferenze sono esterne se invece la distanza tra i centri è congruente alla somma dei raggi allora le circonferenze sono tangenti esternamente se invece la distanza tra i due centri è compresa tra la differenza dei raggi il maggiore e il meno e il minore quindi supponiamo in questo caso che R maiuscolo sia il raggio maggiore e la somma dei due raggi allora le due circonferenze sono secanti se invece la distanza tra i centri è esattamente concurrente alla differenza tra i raggi quindi in questo caso R maiuscolo rappresenta il maggiore dei due raggi allora le due circonferenze sono tangenti internamente se invece la distanza tra i centri è minore della differenza tra i raggi allora le due circonferenze sono una interna all'altra e questo capita nel caso particolare in cui le circonferenze siano concentriche e quindi che la distanza tra i due raggi tra i due centri sia uguale a zero prova tu a dimostrare che vale questo criterio la lezione è terminata vediamo se è tutto chiaro grazie a tutti